un ganga no mancela ti volevo dire oh mancela mi sei andato in contro ti volevo dire mancela non lo so, mi si dirà però fare coppia lo fai un po' di singola e poi tu mi scrivi no, mi si dirà, voi stiamo sul disco di minchia perfetto oh mancela si dirà adesso che succede? no, è che sono buttato un animale per molto o normale? no, no, normale minchia non è normale male, male ma oggi sono andato al supermercato e mi sono fatto 4 catbull ma faccio un pacchi patati ho spesso 10 auto di cat deve andare peggio beh, le mettono nella menta la faccio tipo, l'abbellisco aiuto ok, adesso non te ne prendi più non c'ho riempito la menta ma se lo massimo mi prendo quelle che non ho allora ancora ce ne sono 3 ma già cosa tu forse ne hai capito oggi ho fatto la visita medica posso riprendermi, posso ricomparmi le big eh, lo chingee no, li comprammi, ho visto che bello ah, c'è quindi cioè da me lo passi là no, secondo 4 big andy con con Mattia, poi il venemico quindi le mostre ne hanno tanto per diciamo si, la pizza delle big e questo è sempre un po' di pochi ah, si, capisco tanto così ne fanno massa posto e non si è nata che mi buono che voglia di quesco perchè spiega che n un quadernamento di sindicato facciamo te cattiva io ho il tuo compagno che si compite io non posso la città la città perché a dire che cosa è successo successo potete vede una volta di vedere la clip dopo dopo che fisco sapete la città di taravano che vuol dire che uno mi ha sparato mi ha avuto tipo con 40 di vita ma la parola mi sta spammando una medaglietta quindi se in due millisecondi motivo mi mettono un mudo e lui la fu diventa tipo metto di un pavimento e poi mi rompe il pavimento gli spumbo 13 di vampa l'ammazzo pulissimo ma via davanti a fare l'aria che deve succedere che stai dicendo ma c'è il mio compagno che ha fatto c'è il mio compagno che ha fatto c'è il mio compagno che ha fatto questi compiti e ci faccio o io non ho potenzialmente un po' oltre a te io ho detto mi dispiace che sono la volante ma che mi ha detto che faccia scherzo però secondo me non è vero pure io te l'avrò detto vai bander ti prego vai bander bander allora ma a te ti piace il bander da bander 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 ben di tecnici ben di tecnici non diciamo un paolo i dicono che modi che fanno tornare in vita i mammoth ma mamma ma dalla vita reale non ho la vita non ho mamma po' così erano molti si cominciano a riposare ecco questo è il mondo un magico in chiaro di mangiare un programma di mommoth allora tanto lo sappiamo lo so tutto tutto il mondo che è noi c'è singolo da soli perché c'era minchia vabbè però basta che vado molto a video l'importante l'importante sarà l'importante vabbè alla fine quando moriamo chi ce ne f***a ma non è da mio è da mio col muro vabbè alla fine quando moriremo poi alla fine quando moriremo non ci interesserà più dall'umanito faccia domanda vabbè dove andremo vabbè vabbè un input l'input è a cartibub vabbè cartibub vabbè 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 Neneene Aspetta! Lo vedo direttamente dalla live questa boulder Aspetta! Lo vedo direttamente dalla live! Aspetta! Che complicazza! La prima key! Aspetta! 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 perchè io voglio cambiare, cioè io cambio tanto liquido non mi sono mai sbagliato due liquidi uguali ah figo, figo e quale ti prenderà il prossimo liquidi? eh no, vedi? vabbè te li presto io io prendo dalla mia pentola dove? io cazzo io cazzo, non c'è una batta che se vuole c'è oh perca, vabbè ma come hai fatto alli short? oh oh vischino, vischino questo, vischino mi fa pena questo, è stato stuprato vabbè, poteva andare peggio by sky, by sky, by sky mi stai avendo una live guarda questo, hai visto che ho stuprato a questo, vischino non ha capito, non ha capito non ha capito del post non ha capito proprio si, come funziona il gioco non ha capito come si vive è morto è infatti oh, c'è Fred sì, sì, va bene come si dice non c'è però cazzo perché so come dice, stiamo andando a caldo io in maniche corte, pantaloni corti, sono uscito vabbè, però c'è, ora c'è Fred nel senso, c'è stato di pomeriggio io sentivo Fred cioè, sto sempre con pantaloncine magliettina con maniche corte però no, sento Fred ma, meglio non sono uscito non so come è stato ma, ma, perché? mi sto col paccio 30, 30, 30, 30 però io ho tolto no ma sto pompa, leva troppo poco cioè, 32, 63, 41 ma, nella vita reale sei riuscito ad ammazzarlo ma, c'è, io ho tolto, 63, 41, 32 ma, c'è avanti, ce ne so ma, c'è avanti c'è avanti la 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 oh oh ma, dai ma, che cazzo oh ma, c'è, ma, quanto sono prolig boonoo minca col paccio mi c'è mi chiamo ma, c'è, come sei riuscito ad ammazzarlo a lardo minca l'ultimo mi ha girato spawn a me mnc, avevo peggie venti bono giocchi la mia giornata ripristinare il caso ma scollegato perchè scollegato perchè scollegato perchè sei scollegato oh allora perchè sei scollegato l'estate sta finendo che vuol dire l'estate sta finendo che vuol dire l'estate sta finendo l'estate sta finendo vado a andare bene questo è un partitone comunque c'è questa bomba la doppia 20 20 20 ma che non ha fatto troppo cagare non fa proprio danno non c'è modo io andello qua il puntatore come come che ho eh allora tu lo fai tra l'allero papapero allora però dovresti fare una live di clash royale beh beh si una live di clash of clans io non c'è io ho il mio canale deve andare diciamo oh devi portare devi sempre variare in tendenza deve andare il mio canale allora devi sempre variare qualche volta ti porto fifa giochi un po' si che cazzo ho fatto della delle 3dvd del mio pc anche se non c'è nel lettere wks wks ma c'è quale cosa è il lettere wks vai allora lettere wks c'è c'è cosa vogliono dire no eh sono tipo i cd tipo si 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 vanno ma c'è ti so i povi no tipo quando cioè il collegio le viste si ma sono troppo ignoranti ma sono tipo quelli elementi più più umani c'è troppo più umani secondo me i più bimbi minchia d'italia vengono vengono scelti vabbè sono elementi umani ma c'è secondo me ogni minchione d'italia viene a letto cioè i più minchioni d'italia vengono a letto vengono a letto vengono a pochino vabbè prendono a quelli ignoranti si vanno tutti tipo i personaggi tipo una una puggile mi scherzo appena una una pulla un'altra una pulla se hai già una già si è scopata mi scherzo ehm 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 ah ho visto proprio la puntata come? ho visto la puntata proprio direttamente a tutta la puntata cioè ero curioso sai che fai però io ovviamente me lo voglio più c'è un cazzo ma allora trovi questa puntata cioè dovevi aprire una coltata no ehm sull'errore la hai già registrata eh ma se le banche ci mancasse che è una serie tv di come si chiama si scaggo si scaggo da scaggo atlantic che scaggo atlantic atlantic ma atlantic ma atlantic a 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 la a a a a a a metraglietta che mia moglie mi so fatto una mitaglietta perché per così la canzone no? la fanno tutti tanto abbiamo un peti schianti come ti aspetta tua madre così è una canzone no no eeeh mi scopo tua sorella non giuro è troppo figa eeeh no no più abbastanza ma c'è it's a bitching ciao Cristiano boh che ne sa l'ho perso la strada boh capace che è morto è che a me che me ne fotte ma chi è no non c'è questo è forte cazzo come andiamo ben do Chase vero is c'è び che se è blog ch che dici? eh? boh, io ho questo scavato, ho sentito tipo alcune cose che diciamo, non so potrebbero denunciarti per questa cosa vabbè, io me ne voglio, manco un gongiorno è un po' via c'è il mio tight ma che ho i chi l'avevo usando? bingo, oddio allora ti porterà sento domingo che cosa vuoi? che cosa vuoi? ma che ma cato Bingo Ma Non c'è Non l'ho vista Aia Che cattivo Cattivo Questo è stato cattivo Comunque ti porterò A Santo Domingo No Non giocano bene Questa persona Ma giocano Ma come giocano C'è cosa Che cattivo Dove c'è una trappola Ma che è Vabbè Potrò andare peggio Bingo Bellissimo E' tutto finto Mi scappa un colpo Adesso è tutto finto C'è se non è fake E' una volta che ho fatto E' stata fake Allora ti porterò a Santo Domingo C'è zitto Che è Domingo Domingo Che è Domingo Che è Domingo Che cosa Che è Domingo Allora col bolide Domani si muore Ma Ma Che è Domingo Che è Domingo Che è Domingo Che è vado Mascosto una volta Una volta non era molto Con quel cazzo di Pittuso Ma Ma Boh Adesso Alla fine è tutta la vita È un fake E' un fake Quindi non sappiamo Se siamo Vivo morti Tutto complotto C'è tutto Complotto Non sappiamo Se siamo Domingo morti Se siamo Degli spiriti Se siamo Degli spiriti Degli spiriti Io lo speso Sessi Sessi Vono dei spiriti nebulizzati io lo spero carlè dei piriti nebulizzati vedi che c'è un manco di segnalità del suo semplice la sua sola per riconosci però neanche un ingegnere direbbe infatti si vengono cioè dobbiamo dobbiamo riconoscere l'arrivo riconosciano si sbagli s po' vabbè è vero riconosciere l'intelligenza dei cavolfiori casiccio Giappolo lo vedo in ritorno vabbè lo vedo in ritorno vabbè voi fai aspetto a tutte le parti in singolo che faccio vabbè allora io lo vedo in ritorno vabbè che ha il ritorno ah ah ma no ah brah eh bhe bhe eh bhe bhe aia sac quer aia capito guardate pedicci n no la cia stella l'accia e stava dicendo mi è sembruto cia mi es maaaaa mi è sembrato un odigo mi è sembrato un odigo come mi sparò mi è sembrato un odigo a me sembrava un kamikaze un kamikaze un kamikaze un kamikaze un kani mano un kani un kamikaze gg ah no 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 allora comunque dovresti prenderti alla ferie ma infatti a te mi sa che è una settimana di vacanza ma la faccio non un po' c'è più come decida ma che ha detto il te lo fanno 6 per l'età boh ma che cosa non lo so vabbè però potrebbe potrebbe succedere ah allora no andiamo ok io sogno solo io non sono mai stato un drogato io sono un drogato sono un drogato sono un ragazzo lo faccio brutto per tutta la vita eh 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 allora nel supermercato eh ok tutti i ragazzi basso non 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 che cazzo dici lancia io non era quello che stai domando lancia a post eh? boh si c'è certa volta eh? eh? no no ma sai ho giocato un po' ho giocato a fifa e mi sono mezzo l'incontro hai giocato altre altre domande? hai giocato con gabriel? no eeeh quanta volta io hai parlato l'ultima volta? eeeh non io parlo da ieri pomeriggio ieri pomeriggio eeeh aver pensato a... al suicidio si ho pensato all'altro no no l'altro no dogano ehm più difficoltà no 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 quello assolutamente non mi piacciono quel genere di di... di forme falliche ehm quel genere di farmaci ehm con le siringhe non mi piacciono non ho pensato a segreti no 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 ma cosa verissimo è un interrogatorio adesso ah per vedere se è incogliente ah no no siccome ho giocato un po' a fifa mi sento diciamo mezzarino ma come c'è? ma come c'è? ma c'è? neeeh oh oh... come c'è preso? dai l'ho preso! Vabbè non c'è, questo non lo so Cioè, o è ben difficile questo È ben gi-micchio Vabbè, ok Allora comunque lo scuderebbe Che è più vecchio di me Che hai tu? Non c'è? Che è? Ma sì Il mio compagno fa Uno nuovo che non conosci Fa Piccolo manda le foto di storia E lui fa Ma sono tutte per domani Io ce l'ho solo per ieri Vabbè Umorismo, cento per cento E chi è che sto per domani? Lo mandate, mi chiedo Mi chiedo, no, no, per ieri Eh, va, è stiamo Mi chiedo, bello che lo manderai le cose per ieri Come? Bello manderai le cose per ieri Mi chiedo Utili 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 Ma, utili Putin 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 Scu, scu, scu Uuuuuh Scu 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 colpa soppeggiando di rango stai pian pian bambino piangi gengio era perché c'è uno che un serpente nello stivolo perché c'è uno stipale lo stipale uno stipale una finchicare allora comunque in 4 sopra il mio mezzo comunque c'è l'acolanguino che è cos'è? l'acolanguio l'acolanguio l'acolanguio? ma c'è? no! vediamo l'ho visto 23 di 118 23 di 118 ma c'è l'ho visto? si ma c'è due headshot da me volte ma poi come mi ha sciolto ma c'è? vabbè vabbè e siamo qua e siamo qua ma c'è siamo qua ma tu non dicevi che dovevi fare la vittoria in singolo ma c'è dai vieni nooo dai perchè? mi senti? davamone perciò che non mi senti? io devo giocare dai lanciare c'è un po' di come si chiama? nooo tricativa davamone nooo seee vieni che a dire nooo peggio di peggio ma c'è un anigma in due lanciare si si ma lanciare perché è bello nooo nooo vabbè perchè? gioca solo in creativa in creativa gioca solo sul Discord mi devi dire thank you vabbè tu comunque cioè io non l'ho capito perchè perchè hai fatto i giochi poi non ti fai di giocare cioè dici accendi e poi dici minca che palle ho acceso si forse mi capito mi capito zuntamente vabbè perchè va bene vabbè 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 no tu ce l'hai capito tu 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 bai tu tu minca non devi smettere di prenderli per perii fondelli per i bomberli per i bomberli per i bomberli eh ma si è giocato no ho capito quanto è giocato? o attaccato alla quattro è finito ora no non è stato un po non è stato un po ah ecco perché ha preggiorato proprio prima hai giocato con me dalle tre no di meno da luna a tre cazzo 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 vabbè lo esco una cazzo vabbè paolo domani esco alle 11 e ciò la verifica della piccola ross vista l'odio beh chiesti forse tu sei mancato nella verifica quando il primo giorno si nella verifica si è mancato no? si e ti aggiungerò due domande no che scrooci vabbè ma penso che visto che sono mancato l'altra volta mi fa fare tipo un giorno ora e un giorno un giorno la prossima volta cioè un pezzolo la prossima volta o me la fa fare tutta una non c'è dipende due ore no un'ora sola perchè domani usciamo all'uno eh domani usciamo alla una domani usciamo alle 11 si ma la verifica di quanto hai due ore? si perchè gli altri che gliel'ha fatto fare l'altra volta e ora gliela sono spediamo in mano dobbiamo fare quanti no no questo faccio mi schemi ok giusto quindi aspetta ripeti e di quanto? eh l'altra volta gliel'ha fatta fare e ora gliela sto facendo per te ah quindi vabbè tu ti da un'ora? me lo dovrebbe fare continuo ti fa un'ora e poi becazzi 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 che fa vi freddi ora dopo fare un'ora eh mi cazzo eh mi sembrava mi sembra così becazzi 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 Delle di cose di storia Boh, te la vedo Sì, storia sì Cioè, devo soltanto ripassare Tra l'altra volta è ripassato Però poi non capi No, l'altra volta ho fatto la verifica di antologia Ho iniziato subito Ancora erano a 25 quando ho finito Ho detto, ma... C'era le verifiche della nicoce A metallietta Le verifiche della nicoce Gli è scritto a metallietta No, ma purtroppo è che non passa mai all'ora Quando ci sono le verifiche su In realtà a me... Cioè, faccio la domanda già con tutto il culo Eh, venga Io finisco la domanda Eh, continuate a 5 minuti Consegnate Venga, venga, venga Allora, soltanto io ho questa percezione Allora, piccolo, ho fatto un compito Oggi ho fatto 10, li ho visto Sì, l'ho visto Ma come cazzo? Ma c'è, il compito è da di due ore L'ha fatto in un'ora e mezza Ma come è possibile prendere 10? Certo Andrei a 10 Andrei a 10 Se può mostrare storia Puoi prendere uno tutto l'anno Tant'è questo 10 Che ha 10? C'è un pegassio 10 Andrei a fare... Eh, i suoi 10 anni No, andrei a fare il pellegrinaggio A Sant'Ano Salia A... In... In zinocchio Ma, perché? Ma... Ti la pigiassi la cia o me ne la mettono? Ti pigiassi un tumore? No, no, no No, no, no Ti ha tutti buoni Tutti assai Vanno presso Hanno presso Quattro persone Quattro e due due Quanto hanno presso? Quattro persone quattro E c'è che l'ho preso Che ha preso quattro Che ha preso quattro? Quattro persone e uno Quattro persone e uno Chi è che l'ha preso? Ma è coglione questo Eeeh... Domenico Di Maria Pitagresi Ah no, tu non riconosci Vabbè Sono i compagni Eeeh... Eh beh, è quello di là Quello che... Sì, e poi il Rosario Due... Due micro E' l'altro due Chi è? Da minchia Eeeh... Boh... Questa è generale C'è una cosa Domenico Domenico sta facendo schifo A storia No, Domenico Ha preso un 3 Un 1 Ma... Ha la media del 2 Domenico Ma però l'anno scorso Facevo la schifo Ma sta facendo schifo La poso in fisica 4 Ma era difficile In antologia In... In antologia grammatica Ho preso un 3 O un 2 Ma è una roba difficile Sto verifico L'istoria Ah Minchia Sì Erano veramente Erano 14 domande Troppo... Troppo lunghe Chiara ma tu sei abbonato al 5 e mezzo Cioè... Eeeh... Tutti i due anni che prendo 5 e mezzo 5 e mezzo 6 e mezzo 5 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 e mezzo Ho fatto tipo una metà cosa Ah allora... Allora ma io faccio schifo Cioè se il compito io scrivo la stessa cosa Il compito lo faceva tipo domenico Eeeh... Prendono 3 E cioè tutto su... Su cognome Mi chiamo Chris Eeeh... E picchio 5 e mezzo Sto stesso che mi chiamo E faccio il cognome Locascio Cioè veda così Era un altro Tuo amico Che dice Che dice Che sta cosa Cioè Che allora piccolo Quanto avrò fatto Tipo sette pagine Eh sì Tipo Sette pagine Ah studiato tipo Per una settimana Tutto il gioco Boh Dice che non ha studiato Però Eeeh Ma è impossibile E chi è Eh vabbè Che mica sei l'uscita Dal cilindro Se cosa Dal cilindro ma Vabbè Dal cilindro Fai finta che Che è dal cilindro Oh vabbè Mangia ma se muoio Oh Io non conosco Guardando la lata Ma tu hai fatto bingo Ma io Ma no Ma c'è il cazzo Dei Eh Che io ho fatto bingo Non ti permetto Di me Ho fatto bingo Ah no Cioè Non volevo infierire Sulla situazione No Dovevo andare a fare kill E' andare a fare Kill Allora secondo te che uno vince Stanno Un pallone d'oro Eeeh Alisson Alisson Ha vinto Ha vinto la Champions Lo scudetto E la Coppa E la Coppa America Allora secondo me Questa è una razza Allora secondo me e As Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che bella esultanza, complimenti. Buoh, io segno che il giocatore si mette a fare le sultanze del tollo. Vabbè. Ma... Ma... Bah... Allora, comunque accenso donge col board. ... 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